Sicuramente negli ultimi anni ho avuto modo di apprezzare la sua disponibilità, io preside e lui imprenditore, a dialogare con la scuola, a vedere nei ragazzi il futuro. Ho rivisto ieri uno degli ultimi sms che mi ha mandato nell'interlocuzione tra di noi che diceva grazie per l'impegno che dedicate al nostro futuro. Quel nostro mi ha rimandato alle volte in cui è venuto a scuola per incontrare i ragazzi. È stato sempre capace di coniugare la visione di imprenditore con la visione dell'uomo e quindi ha investito e ha invitato ad investire sulla formazione, sulla scuola. Era un imprenditore che credeva nella scuola, credeva nello studio della lingua, delle lingue straniere, delle discipline tecniche ed umanistiche. Questo è un tratto che mi rimarrà sempre di lui. Secondo me l'elemento che lo ha reso imprenditore illuminato è questo. Un altro elemento era la qualità che si coniuga con il fare bene quando sai o sei sicuro che gli altri non ti vedono e non ti guardano. Questo secondo me è un altro elemento che dice direi l'affidabilità. Si fa bene non a beneficio delle telecamere, non a beneficio dell'autocelebrazione. Si fa bene quando nessuno ti guarda ma il tuo impegno, il tuo dovere te lo richiede.